Gentile segnalatore, ecco le istruzioni per poter effettuare una segnalazione attraverso la piattaforma Wallbreakers. Possono essere segnalati Comportamenti, atti o domissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'azienda e che consistono in Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali Condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 231 del 2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali relativi ai seguenti settori Appalti pubblici Servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo Sicurezza e conformità dei prodotti Sicurezza dei trasporti Tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare Sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali Salute pubblica Protezione dei consumatori Tutela della vita privata e protezione dei dati personali Sicurezza delle reti e dei sistemi informativi Atti o domissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Atti o domissioni riguardanti il mercato interno Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Sintetizzando, possono essere quindi segnalati tutti quei comportamenti che possono danneggiare la reputazione o la stabilità finanziaria di un ente o di un'azienda Un esempio pratico è una segnalazione fatta perché le verifiche agli estintori presenti in azienda non sono state effettuate Questo comportamento, oltre a essere pericoloso, potrebbe portare a una sanzione per l'azienda causando danno alla stessa E' importante che venga segnalato all'azienda ed ecco quindi che possiamo segnalare utilizzando la piattaforma Chi può effettuare una segnalazione? Chi è collegato in senso ampio all'organizzazione nella quale si è verificata la violazione? Chi potrebbe temere ritorsioni se si esprimesse direttamente agli enti preposti in considerazione della situazione di vulnerabilità economica in cui si trova? E segnatamente? I dipendenti I lavoratori autonomo I collaboratori esterno I liberi professionisti e consulenti Soggetti terzi che intrattengono rapporti con l'azienda ad esempio clienti, fornitori, distributori, ecc. Colui che svolge tirocinio retribuito o meno Un volontario che sia retribuito o meno Colui il cui rapporto di lavoro è terminato o non è ancora incominciato un ex dipendente o un candidato Colui che lavora sotto la supervisione e direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori Azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, vigilanza o rappresentanza Il soggetto che effettua la segnalazione è comunque responsabile del contenuto riportato nella stessa Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze, sul piano civile, penale e anche disciplinare, in caso di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave che si rivelino infondate Ma come posso essere sicuro che l'azienda o persone interne alla stessa non possano fare ritorsioni su di me? L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni Le ritorsioni sono vietate per legge punibili di conseguenza La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione Nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla Data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione Nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali Le segnalazioni e presa in carico dal gestore della segnalazione sono gestite nel pieno rispetto delle normative a tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, del segnalato, di eventuali terzi barra testimoni citati e dei fatti riportati nella segnalazione Fare una segnalazione è semplicissimo Per prima cosa clicca sul pulsante invia una segnalazione Dopo aver letto attentamente eventuali indicazioni relative alle modalità che l'azienda ha scelto per gestire le segnalazioni, procedi per la compilazione del questionario Prima di procedere con il questionario vero e proprio potrebbe esserti richiesto di scegliere propedeuticamente il tipo di segnalazione che potresti fare Nel caso scegli il canale che più si addice al problema, altrimenti verrai portato direttamente al questionario A questo punto procedi rispondendo alle domande che ti vengono proposte Alcune risposte sono obbligatorie per poter procedere con l'invio della segnalazione e sono contrassegnate da un asterisco rosso Finito di compilare le domande sei pronto per inviare la tua segnalazione Per poter concludere la segnalazione clicca sul tasto invia in fondo al questionario Il sistema prenderà in carico la tua segnalazione e la invierai ai soli riceventi autorizzati alla gestione della stessa Entro sette giorni dall'invio la tua segnalazione verrà valutata e verranno presi i necessari provvedimenti per gestirla entro 90 giorni Attendi che il sistema prenda in carico la segnalazione e scriva a video la ricevuta della tua segnalazione E' molto importante che ti ricordi di prendere nota e di registrare il numero della ricevuta che ti verrà indicato Questo è l'unico modo per te di tenere sotto controllo, se vorrai, l'evoluzione della tua segnalazione inserendo lo stesso nella pagina principale del portale Grazie per l'attenzione